Sindaco, la presa di posizione su Italia e le prefetture, fatta da parte sua e dal sindaco di Chieti, ha avuto buoni risultati? Ma guardi, io credo che era soltanto una questione di buonsenso. Mi fa piacere che qualcuno ha fatto ragionare il governo. Devo dire che l'onorevole Tancredi si è impegnato su questo e gli va dato riconoscimento. Era, ripeto, una questione di buonsenso. Io ho spiegato bene che con questo ed altri provvedimenti città come Teramo, città medie, che fanno parte dell'ossatura del nostro paese, rischiavano di essere desertificate. Mi fa piacere che questo il governo lo ha compreso, soprattutto nel momento in cui c'è bisogno di maggiore sicurezza per tutto quello che sta accadendo. Le prefetture avrebbero portato la conseguenza naturale di perdita dei comandi provinciali, di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e della Questura e del Questore. Questo ovviamente non era possibile e quindi diciamo che sono soddisfatto perché comunque questo territorio non perderà queste importanti istituzioni. Sono anche un po' soddisfatto perché alla fine la mia battaglia, che se vogliamo ho compattuto anche un po' da solo, alla fine è stata vinta, ma non da Maurizio Brucchi, non conta questo. Dalla città di Teramo e da tutte quelle città come Teramo che rischiavano di perdere le prefetture. Quindi adesso bisogna continuare a lavorare a convincere Luciano D'Alfonso che quella della ASL non è una, diciamo, la ASL unica, porta le stesse conseguenze della perdita della prefettura. Far perdere i rappresentanti locali, provinciali, per quanto riguarda la sanità e i territori, non porterà nulla di positivo. Io questo l'ho detto e lo continuerò a dire. Invito ancora una volta la Regione Abruzzo a riflettere su questa scelta, una scelta che non porterà niente di buono. Ripeto, basta guardare la Regione Marche, quello che è quella che sta dicendo è la verità.